dialogo fra dio misericordioso e l'anima che tende alla perfezione gesù mi sono graditi i tuoi sforzi o anima che tende alla perfezione ma perché ti vedo così spesso triste ed abbattuta dimmi bambina mia che significa questa tristezza e quale ne è la causa l'anima la causa della mia tristezza signore proviene dal fatto che nonostante i miei propositi sinceri cado continuamente e sempre negli stessi difetti la mattina faccio i propositi e la sera vedo quanto sono andato lontano da tali propositi gesù vedi bambina mia quello che sei per te stessa la causa delle tue cadute dipende dal fatto che conti troppo su te stessa e ti appoggi troppo poco su di me ma questo non deve rattristarti eccessivamente hai a che fare con un dio misericordioso la tua miseria non lo esaurisce del resto non ho limitato il numero delle volte in cui posso perdonarti l'anima sì conosco tutto ciò ma mi assalgono grandi tentazioni e vari dubbi sorgono in me ed inoltre tutto mi irrita e mi scoraggia gesù sappi bambina mia che l'ostacolo più grande alla santità e lo scoraggiamento e l'inquietudine ingiustificata che ti toglie la possibilità di esercitarti nelle virtù tutte le tentazioni messe assieme non dovrebbero turbarti la pace interiore nemmeno per un istante e l'irritabilità e lo scoraggiamento sono frutto del tuo amor proprio non devi scoraggiarti ma cercare di far regnare il mio amore al posto del tuo amor proprio perciò fiducia bambina mia non devi scoraggiarti ma venire a chiedere il perdono a me dato che io sono sempre disposto a perdonarti ogni volta che me lo chiedi esalti la mia misericordia l'anima io conosco ciò che è più perfetto e ciò che a te piace di più ma incontro grandi ostacoli nell'eseguire ciò che conosco gesù bambina mia la vita su questa terra è una lotta ed una grande lotta per il mio regno ma non temere non sei sola io ti sostengo sempre quindi appoggiati al mio braccio e combatti senza aver paura di nulla prendi il recipiente della fiducia ed attinge la sorgente della vita non solo per te ma pensa anche alle altre anime e specialmente a quelle che non hanno fiducia nella mia bontà l'anima signore sento che il mio cuore si riempie del tuo amore che i raggi della tua misericordia del tuo amore sono penetrati nella mia anima eccomi signore che vengo per rispondere alla tua chiamata ecco vado alla conquista delle anime sostenuta dalla tua grazia sono pronta a seguirti signore non solo sul tabor ma anche sul calvario voglio condurre le anime alla sorgente della tua misericordia affinché su tutte le anime si rifletta lo splendore dei tuoi raggi misericordiosi e si riempia la casa del padre e quando il nemico comincerà a lanciare i suoi proiettili contro di me mi riparerò dietro lo scudo della tua misericordia